per ampliarsi l'effetto dell'incendio anche ad altre case, quindi ringrazio i Vigili del Fuoco. In corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della villetta in legno di quattro piani divorata dal violento incendio divampato per cause occidentali. Si propende per il corto circuito provocato da un difetto all'impianto elettrico che è tenuto impegnati i Vigili del Fuoco per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba. L'abitazione è una casa vacanza in multiproprietà e risalente secondo alcune stime all'anno 1000 sotto tutela della soprintendenza e rientra in quei edifici di natura storica. La stessa è ubicata nel borgo di Mulbach, che hanno dato vita poi all'attuale comune di Sappada. Da sottolineare ancora una volta come i residenti presenti nel borgo ma nell'intera valle delle sorgenti del Piave, da subito si siano mobilitati in aiuto dei proprietari, non solo moralmente. Solidarità e vicinanza da parte dell'amministrazione e dell'intero consiglio comunale. La prima cosa è la messa in sicurezza anche della strada e ci stiamo attrezzando anche come comune per dare supporto ai Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza. Sicuramente ci sarà la fase 2 della ricostruzione, come dicevo, fabbricato importante, una testimonianza storica architettonica, quindi bisognerà intervenire anche in un certo modo e ci sarà il supporto sicuramente anche di enti regionali, penso anche alla sovrintendenza, perché tutto il territorio di Sappada è vincolato dal punto di vista paesaggistico.